Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati con un nuovo cast, io sono Blackforce, oggi portiamo il Cushni Buon vecchio Cushni Oggi in un ZVP Effettivamente è giusta anche l'idea che ha avuto Cushni, è quella di mettere il link a WeTransfer nei commenti E poi io mi scarico il replay tranquillamente da WeTransfer Dato che comunque avevamo avuto dei problemi con la mail, non mi era arrivato il suo allegato Vabbè, cose che possono capitare Effettivamente l'idea di mettere su WeTransfer forse è anche un po' meno spugnettosa Quindi, grazie Cushni per l'idea, se altri se ne vogliono servire possono tranquillamente e ovviamente farlo Ho perso downbounding bars adesso, quindi sono molto contento Capite bene dalle mie voce come io sia contento di questa sconfitta Capite se uno mi va sopra in macro Se uno mi fa una roba del genere Su alcune mappe che devo dire sono veramente poco terran oriented Terran oriented Diciamo Tre razze oriented, molto zergo oriented Con delle basi Facilmente difendibili E dei punti dove il banner in basso fa veramente male Comunque L'errore è sempre mio nel non scoutare, nel non prendere le giuste contromisure ovviamente Mai dare la colpa all'avversario, alla strategia chip eccetera Che Alla fine è questo il gioco Devo portare un bel replay mio Dove la macro batte la micro Però è questa Una cosina molto importante Che voglio assolutamente portare Magari lo faccio dopo questo replay di Cusci Cusci che prova con i suoi zerglini a mordicchiare Il struttore del Protos Protos che invece ha piazzato il suo Zelota bodyguard davanti All'entrata Se vuoi entrare di qui ti ammazzo gli zerglini uno per uno D'altra parte Cusci ha fatto una base Sto mandando le prime fase della partita dove non succede praticamente nulla Un Protos che va a prendersi il suo bello stargate Quindi vediamo cosa vuol fare Finici e consiglio del crepuscolo A questo punto Cusci può tranquillamente dronare, fare le zine per ingettare E aumentare la sua produzione di cripple, il suo spargimento di cacca In giro per la mappa Qui consiglio di collegare la prima base con la terza base Tra l'altro Cusci mi pare che aveva preso Diziamola questa terza base prima di prendere la seconda Sì esatto Quindi questa è la seconda base Diziamo prima di prendere la terza, seconda naturale Appunto per avere uno spread del creep migliore Ovviamente perché quella base interna è molto più facile da difendere Rispetto a quella esterna Attenzione un Protos che va a ricercare l'upgrade per le adepte Intanto con la sua finizia punzecchia l'overlord Per mandarlo via A questo punto Cusci sarà costretto a ritirare Alcuni dei suoi overlord all'interno della propria base Ma non mi pare perché lasce per gli overlord A mantenere i punti chiave della mappa A questo overlord è riuscito tranquillamente a riportarla in base A fare un inject, tirare giù la fenizia Con i Cusci proprio giocata di Gesù Ho un hafta Un hafta, un tagliattino in bocca Che mi dà un fastidio quando parlo È zeserato Quindi ragazzi casterò con il male Capite? Bene che sforzo faccio per voi Ho postato oggi il video Mi pare di sì L'ho pubblicato Mi pare proprio di sì Ora Cusci ha un buon creep Sta ricercando il pieno per l'attacco da mischi Il pieno per la corazza E dall'altra parte però l'adversario sta mettendo giù Terza base E ha un prisma dimensionale in produzione Questo prisma dimensionale può essere molto interessante E può mettere Cusci in grossa difficoltà Soprattutto perché poi Sappiamo che Protoss facendo adepte Possono warpare, trasportare adepte E poi ci sono le shade Quindi danno veramente un sacco di problemi Ai Terran e agli Zerg Ha un buon controllo Di quello che sta succedendo Davanti alla base dell'avversario Ha visto partire Il prisma Quindi sa praticamente tutto Cusci è riuscito con questo drone ad addirittura A entrare in base A dare una scautatina Cusci quanti droni ha? Ha un buon 62 droni Contro un 57 sonde dell'avversario Produce Zerglini a manetta Non ha ancora Mi pare scelto la tech Ha fatto un colonia delle blatte in questo momento Però Non mi pare Ha visto nient'altro Sta risicando l'attacco da mischi Quindi sicuramente vorrà tenere Gli Zerglini dentro la composition Sta andando a mettere giù Una quarta base E questo è un dato molto problematico Per l'avversario Un 0x4 basi Inizia a diventare un serio problema Batte Zerglini al momento Zerglini con la speed E l'upgrade 1-1 in questo momento Mentre è un avversario Che sta andando a fare Stalker Immortali Adept Zelotti C'è veramente poca roba Comunque l'avversario 39 contro 48 Comunque La roba di Cushni Si fa un po' più sentire Certo molti sono Zerglini E già quando arrivano questa Manzata di persecutori Sulla qualità del supply Si fanno ovviamente sentire Ci sono delle blatte Che possono infastidire Comunque l'avversario Subito partito il 2-2 Per Cushni Per quanto riguarda Attacco da mischia E Carapace Per le sue unità Ottimo L'avversario sta ancora Ricercando il più 1 Per l'attacco Quindi è abbastanza indietro Sorvegliante Che viene Beccato dallo Stalker Accorre subito Cushni A difendere Tra l'altro un Cushni Che Ha posizionato Esercito Il lanza spore In modo da difendere Un eventuale Prisma dimensionale Tanto Cushni sa Che c'è in giro Questo prisma dimensionale Deve solo capire Dove vuole andare Un po' a colpire Offre questa quarta base Come Punto dove attaccare Qui L'avversario sta sicuramente Andando per Per dei lavoratori Quindi fa molta fatica A trovare un varco Cushni sta Veramente seguendo Molto bene l'azione Qui Aveva esposto Il fianco Cushni Esatto Portando tutto l'esercito In una posizione Riesce a warpar L'avversario Poi subito Prende E porta Porta a casa Le sue adepte Che hanno fatto Veramente pochissimi danni Sotto il prisma Che Sono in move Quindi dovunque Il prisma Vada Gli segni Lo seguono D'altra parte Vediamo un po' Il protost sta ricercando Solo ora Il più uno Per la corazza Pi uno Per l'attacco Dell'unità Di terra È praticamente finita Ma Cushni Fra poco Avrà il 2-2 E avrà un buon Timing di attacco Cushni che Non ha avuto bisogno Di attaccare in questa partita Il protost Non ha fatto niente Di particolare Siamo a 73 Conto 72 Cushni deve soltanto Stare attento A non A capire la composizione Dell'avversario A capire se Va a fare un air Prende le giuste Contromisure Potenziare la sua armata E alla fine In un attacco frontale Chi ha l'esercito Più grosso 200-200 Ovviamente Lo zack si arriva prima E chi sa Più upgrade Quindi dipende Un po' più Da composition E quanto siamo Stati attenti Di giocatore Poi ovviamente Anche il creep In seed Eccetera Però diciamo che La situazione del genere Cushni non può perdere Magari Non può ancora vincere Però sicuramente Un dato certo Che abbiamo È che Cushni non può perdere Questo È un dato molto importante Per Per il proseguo Della partita Un vantaggio Clamoroso Quindi di Cushni Qui ora delle Viper Che si ricarica Di energia Pronte per andare A sputare questa energia Ora anche L'upgrade Per Le ultramucche Sta arrivando E anche Ghiandole surrenali Per la visita Degli zergline Mettiamo la Prospettiva di Cushni Diamo un attimo Un'occhiata A quello che sta facendo L'avversario Siamo 91-72 Contro 123-77 Quindi un doppio vantaggio Per Cushni Triple Se ci mettiamo Anche gli upgrade Quando Siamo in situazione Del genere È veramente Difficile Perdere C'è il blink C'è il potestamento Per le adepte Immortali Sentry Deve fare Veramente De cose fenomenali Il protos Per esistere Con questi sentry Ma Non credo Riuscire a farle Zelotti Che se la battono Con questi zergline Praticamente Alla pari Anzi Riescono anche Addirittura A vincere Qui Non so Come Non ho visto bene Come ha sorrondato Cushni O semplicemente Aveva pochi Zerglini Giù anche L'antaro Delle idralische Si continua Guardate che valanga Di upgrade Che sta ricercando Cushni E comunque Ora Senza aspettare Oltre Credo che Possa anche Attaccare Dall'altra parte L'avestare Sta cercando Stare costruendo Il foro della flotta Un altro Stargate E Il Santuario Dei templari Oscuri Se Questi Edifici Finiscono Ci sono Un po' Di problemi Per Per il Buon Cushni Comunque La macro Gli pare il culo Qui ha fatto Un ingaggio Il protos Orrendo Andiamo a seguire Un attimo Un ingaggio Perché Cushni Ha voluto Fare Anche Un attacco In base Con gli Zerglini Che Li porterà Sicuramente Se non La vittoria Un sacco Di Punti Dalla Sua Parte Potremmo Definirli Si qui Il protos Riesce A resping L'attacco Tira giù Un sacco Di lavoratori 40 Sonde Contro 77 Qui Cushni Sta Estraendo Quasi Il triple Il doppio Potremmo Definirlo Vediamo Un attimo Il livello Di supply Perché Ha perso Un po' Il livello Di supply Cushni Forse Lei è scappato Con più decisione Soprattutto Sul creep Quindi Metter solo Una leggera Pressione Aspettare Che gli Zerling Faccia solo Questa entrata Che è stata Spettacolare A questo punto L'avversario Marz Diretta Verso La base Di Cushni Ovviamente Cushni Può perdere Anche questa base Diretta Tranquillamente Di sì L'importante È che Ha salvato I lavoratori Questa è stata La mossa Migliore Forse In quel push Avrei messo Giù Anche Un'altra Base Di modo Da essere Più avanti Nella costruzione Delle basi Quegli mortali E le ultra Gli fanno Veramente Malissimo Queste due ultra Sono state Pressoché Inutili Queste sono Stati Dei soldi Ecco Non spesi Proprio Perfettamente Da parte Di Cushni O almeno Non fatte Fruttare Al massimo Qui Il proto Sta sfruttando Un Overextend Di Cushni Però Alla fine Guardate qui Che bel ingazzo Che fa Cushni Con le ultra Bravo Il proto Sa blinkare Con gli stalker Però Alla fine Credo che Dovrà Dovrà Rendersi Cushni Ha un vantaggio Di macro Clamoroso Non ha Il Vespene Non ha il Vespene Però Un po' di ultra Delle blatte Che stanno uscendo Un vantaggio Di upgrade Che È molto interessante 5-3 Contro 1-2 Queste ultra Fanno un male boia Se cadono gli mortali È praticamente Zizi I mortali Che guardate qui Fanno male Quando sparano Le ultra In più Cushni C'ha ancora Delle unità Nella base Dell'avversario C'ha questo zergino Qui C'ha solo questo zergino Qui Quindi neanche Chissà che Di traumatico Alla fine No Ok niente Non ha unità Nella base Dell'avversario Ma di macro Di upgrade Ne è uscito Da questa situazione Dove Non si era messo Proprio benissimo Qui deve andare a prendere Questa base Io ne prenderei Addirittura un'altra Ancora Bravo Cushni Che prende Infatti anche Questa base Un'altra base Ancora Non avrebbe Credo Potrei prendere Addirittura Un'altra base Ancora A dire il vero O addirittura Un macro Se forse lo metteressi Sicuramente Addirittura Metteressi Una terza base Ancora Chiamiamolo Una terza base Ancora Sicuramente Arriva un bel blocco Di unità Blatte e ultra Potenziate tantissimo Le blatte purtroppo Non hanno Un upgrade Per l'attacco Questa è una grossa Pecca Perché Altrimenti Il glimps E' stato Potuto essere Molto più facile Ma Cushni ha preparato Le ultra Già Da un bel pezzo Nella partita Questi zerglini Fanno un male cane Affrontare degli stalker 1-2 Con delle blatte Comunque Ben potenziate Per quanto riguarda La difesa Fa la differenza Qui Cushni Si fa Attrarre Da questo immortale Gli stalker Possono fare Un ottimo lavoro Dietro Questi sono I miracoli Del protos Che chiamavo prima O comunque Semplicemente Possiamo definire Disattenzione di Cushni Alla fine siamo 51-47 Contro 39-62 Questo vantaggio Di droni Da parte di Cushni Veramente Farà la differenza Insieme a un upgrade Che non scherza Per niente Qui c'è anche una gold Addirittura Da parte di Cushni Con uno zerglino Che tiene posizione Qui Per vedere un po' Cosa fa l'avversario Quando l'avversario Vorrà prendere questa base Ho visto che l'avversario Vuole prendere quella base Proprio in questo momento Continuano Le viper Iniziano ad uscire Le prime portastore Una portastore Che comunque In basso numero Non possono fare granché A parte l'upgrade Per lo scudo Di l'unità del protos Non male Anche se devo dire Quei timing Siamo proprio a casaccio Un po' di impaler Un lanci spore Per difendere Stare un po' tranquillo Qui lo zerg Può continuare A pressare Continuare a produrre Fare qualche drone Forse Servirebbe Per arrivare A quei famosi No Tanta di supply Di lavoratori Comunque Avevamo identificato Come Un numero Ottimale 75 Ecco Dall'altra parte Il giocatore Protos Cosa sta facendo Sta facendo Degli immortali Sta facendo Le portastormo Portastormo Che Comunque Non so Gli intercettori Sono Upgrade Gli intercettori Sì Mi pare che loro Vadano con l'upgrade Normale Non quello Delle Unità aeree Sono curioso Di vedere Quando esce La protastormo Qui la catapulta Gravitonica Ovviamente È fondamentale Per la protastormo Altrimenti È abbastanza Non dico Inutilizzabile Però Ha un bel Fermo Il potenziale Non ci sono Fogli intercettori Devo prenderli Quando li spara Vabbè La protastormo Non possono attaccare È dato Prendere la base Dorata Questa base Non deve assolutamente Restare viva Assolutamente Siamo ancora 46 sonde Contro 70 Vedete Cushin è tornato A fare un po' Di lavoratori Questo è importantissimo L'avversario No L'avversario Si è Sotto da concentrato A fare unità È comunque Indietro L'unità Rispetto a Cushin Inizia da dire Che le sue unità Sono più grosse Più di valore Portastormo Immortali L'azza qualche Viper Che comunque Tiene alto L'onore Dell'unità Dello Zerghi Reviser Comunque Costicchiano abbastanza Soprattutto la bile corrosiva È più che costo efficiente Qui Lanza bile corrosiva Ovunque Supportato Dal Dal custode Per tirare giù Gli observer A questo punto Seguiamo l'avanzata Di Cushin Perché si fa Molto interessante Continuando a uscire Portastormo Cushin In questo momento È cappato Dovrebbe prendere Altre due basi Almeno Forse fare anche Un macro axel Non gli farebbe male Le Viper Vogliono tirare Dentro gli immortali Vogliono tirare Dentro gli immortali Comunque L'avversario Non l'ha neanche messo Davanti All'armata Quindi Vabbè Non un bellissimo Ingaggio Da parte L'ho provato Servono comunque Delle contromisure Per quanto riguarda L'aereo Almeno che Cushin Non voglia Proprio avanzare Brutalmente Cushin Sta muovendo La visuale Sta muovendo La visuale E Dicevo Se Non vuole avanzare Brutalmente L'avversario Si potrebbe arrendere Quando sei giù Le portastormo Dici come Comunque Ho due unità Che ho pagato Abbastanza Quindi voglio Provare comunque Vedere se riesco a girarla L'antra dell'idralischi Che scende In questo momento Da parte di questi Quelli di prima Cos'era Che ho visto Non era l'antra dell'idralischi A quanto pare Ma vabbè Questa ultra Verrà tirata giù Queste ultra Tireanno sulla base Tranquillamente Vedete qui Comunque le portastormo Seppure Non riusciranno A fermare Questa avanzata Comunque ti danno Un po' di problemi Un po' di scazzo Sono lentissime Le portastormo Quindi prima che riescono A coprire Un vasto raggio Deve passare del tempo E in più Questi intercettorini Fanno Veramente le carezze Le ultralischi A questo punto Il protos Viaggia Dritto in avanti Verso la base Dello 0 Per Provare a cogliere Quello momento In cui L'avversario Non è preparato Vedete qui La macro 32 Dralischi Che scendono fuori Come niente Ti focusano La portastormo Ha un upgrade Per lo scudo Le unità Del protos Sono 0 Quelle dello zerg Non hanno L'upgrade Per l'attacco Qui Un po' di upgrade Per l'attacco Li potevi ricercare Cusci Andavi benissimo Con l'upgrade Portare l'idra In posizione Focusare Portastormo Per portastormo Qui volevo buttare fuori Anche dei Anzaspore Viper Ovviamente Le riescono a tirare dentro A quel punto Le idra Ne fanno un sol boccone La velocità Delle portastormo Si è enorme Però comunque Avere il viper Che ti tira dentro Fa sempre comodo E a questo punto Cusci Si aggiunge una partita Di upgrade Di macro Soprattutto E alla fine Le cose Vengono da sé Bene ragazzi Mi ringrazio per la visione Spero che il game Di Cusci Vi sia piaciuto Cusci Molto bravo Noi ci vediamo Con il prossimo cast Ciao a tutti ragazzi